Il nostro Samuele Limpi Buonasera Samuele Primo cittadino di Cecina Buonasera Allora Samuele, cosa vi hai pensato di regalare alla nostra larvina? Sì, avevo pensato di regalare il simbolo di Cecina Eh? Fatemi, mi teniamo qua Perché gli copri l'antenna, non sei pratico tu E' il nostro simbolo, che se cecinesi lo sai E' l'omino di ferro E' il simbolo della difesa dei più deboli E questa piazza, questa festa E' fatta per sostenere e per evitare tutti i ragazzi E tutte le persone che si trovano a vivere un'esperienza come la tua Ma tieni duro, eh? Perché ce la farai Anche perché lei è tosta, lei non è deboli Lei è forte ragazzi, cioè veramente Ha carattere e energia da vendere Quindi si merita un dubbio applauso anche soltanto per il carattere Siamo tutti contenti E non è da tutti, guardate, assolutamente Non è da tutti A volte ci lamentiamo per un'unghia spezzata E lei veramente ha dimostrato Anzi, ci hai dato un insegnamento Io lo dico sempre a Roberto Ci hai dato un insegnamento di vita a tutti quanti Grazie mille Grazie mille Grazie il sindaco per questo bellissimo regalo E appena scendo prometto sul video Grazie Grazie Ancora un applauso per Laura Massa Convivere Ricordatevelo su Facebook la pagina Grazie, grazie Laura Grazie anche a Samuole Lippi Ci rivediamo Sì, ma non ci si può fermare così ogni volta Vieni qua, vieni qua, vieni qua Scusate, abbiamo dei fotografi Comandano loro Anche a Samuole Ciao, 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 ciao Ciao Samuole A dopo Ci vediamo dopo A dopo Allora